Le recensioni negative sono l'incubo di ogni albergatore. Quando vediamo perdere quella stellina, siamo lì che iniziamo a piangere in polco. Ma come fare a gestire queste recensioni negative? Rispondendo a tono, beh, già ti dico che questa è l'unica cosa che non devi assolutamente fare. Se vuoi scoprire di più, resta in questo video. Ciao a tutti, sono Alessia, bentornati su questo canale e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Alessia Boccanfuso, social media manager specializzata nel settore alberghiero e ideatrice del metodo social media tell, il metodo che ti permetterà di riempire la tua struttura anche in bassa stagione, attuando una serie di strategie di digital marketing utilizzando come mezzo i social media. Bene, veniamo all'argomento principale di questo video, ovvero quelle che sono la gestione delle recensioni negative. Terribile, ogni volta che arrivano che cosa succede? Che ci lamentiamo ma alla fine non le gestiamo. Se lo facciamo lo gestiamo malissimo rispondendo a tono. Cosa avevo detto prima? L'unica cosa che non dovete fare. Quando collaboro con le strutture ricettive, anche se le persone non prendono magari il mio pacchetto di community management e dico che non fa niente, ma nel momento in cui arriva una recensione negativa, vi allontanate dal pc e chiamate me, perché preferisco gestirla io. La maggior parte di voi mi dicono sì, le recensioni negative mi fanno investire. E quindi che cosa succede? Che iniziate a rispondere a tono, iniziate a rispondere male e questo non deve assolutamente accadere. Perché? Non solo magari una persona si è trovata male e magari non aveva le ragioni per scrivere quel commento, ok? Ma le persone che stanno leggendo le recensioni, che devono decidere se venire o meno da voi e magari lasciarvi 2-3 mila euro per un soggiorno o anche meno, ma comunque vi devono lasciare dei soldi e vedono che qualcun altro si è trovato male e vi rimando voi che cosa fate e lo iniziate a insultare e magari anche in modo sgrammaticato, beh credetemi, quello non è un biglietto da visita molto allettante. Quindi le persone che cosa fanno? Bene, se ne scappano via e scelgono un'altra struttura. Ma non pensiamo a questo, pensiamo a quelle che sono le notizie belle. Se siete una nuova gestione, ad esempio sul TripAdvisor potete chiedere di cancellare le recensioni negative. Com'è possibile farlo? Inviando una marea di documenti al TripAdvisor, è una cosa, un lavorone di una noia mortale, però non fa niente. Nel momento in cui voi riuscite tutti i documenti, basta cercare su Google come cancellare le recensioni su TripAdvisor che vi escono tutte le informazioni che cercate, oppure contattate l'assistenza di TripAdvisor e vi risponderanno subito. E in questo caso voi potete chiedere di cancellare tutte le recensioni, purtroppo anche quelle positive, che sono precedenti alla vostra gestione. Ora, proprio l'altro giorno stavo parlando con un nuovo cliente nel quale abbiamo visto la situazione, abbiamo detto che a te non conviene fare tutto ciò, perché? Perché il 99% di recensioni positive, quelle negative lasciamole lì. Ma cosa succede se ne abbiamo tantissime negative di uno precedente gestore? Quelle le dobbiamo far sparire o perlomeno vi dovete mettere lì e dovete rispondere a tutte specificando che dall'anno in corso si tratta poi di una nuova gestione. Quindi questa cosa è importante sottolinearla e soprattutto rispondere in toni molto opacati ed educati. Ma se invece voi purtroppo non siete una nuova gestione e quindi vi tocca tenervi quelle recensioni, beh vi posso dire che a volte accade che rispondendo alle recensioni queste poi vengono cancellate da chi le ha scritte. A me è capitato solamente due volte, ma me lo ricorderò a vita fino a quando sarò ecco per l'appunto in vita, perché è una cosa che non succede sempre, però le persone a volte scrivono le recensioni negative forti del fatto di stare dietro alla pastiera, dietro a uno schermo e del fatto che voi non risponderete, perché la maggior parte degli albergatori questa cosa non la gestisce oppure non la dà in gestione e quindi che cosa fate? Vi fate soprappare da queste recensioni negative. Quando in alcuni casi ho risposto a queste recensioni è successo che poi queste venissero effettivamente tolte. Una dove non l'abbiamo scritto chiaramente, ma abbiamo fatto comprendere in toni educati senza menzionarlo manco una volta, che la signora si stava avvicinando molto molto a una denuncia per diffamazione. Oppure in un altro caso, una persona che non risultava assolutamente nel nostro database, nel caso era di Facebook, un profilo reale dove usciva il nuovo cognome, io le risposto correttamente e da manuale alla recensione concludendo con un educato. Un po' gentilmente ci può far capire quando ha soggiornato da noi, perché purtroppo non ci risulta come un nostro cliente. Quella era una recensione falsa che poi la persona d'altra parte si è spaventata e l'ha tolta perché poi aveva paura di avere problemi. Effettivamente è stato così. Però a volte capitano delle recensioni che purtroppo ce le becchiamo noi ma non sono indirizzate a noi. Ad esempio un cliente è capitato che stavano recenzendo il ristorante accanto perché se ne siamo accorti, perché il mio cliente non faceva pizza e questa persona ha messo le foto della pizza e criticava tutto quanto e semplicemente ha indicato il ristorante sbagliato. Un altro caso mi è capitato di una recensione che invece di andare a recensire l'hotel hanno recensito la città. Dell'hotel manca una menzione semplicemente perché nel nome dell'hotel c'era il nome della città. Quindi che cosa hanno fatto? Hanno recensito la città negativamente lamentandosi dei vigili su quella struttura ricettiva, su quella pagina tipo Amazon. Che cosa succede in quel caso? Si va a rimuovere, a segnalare con la recensione come non appropriata e quindi si fa in modo di farla eliminare dal sistema. Ovviamente voi andate a specificare per come e per quando questa recensione non può essere considerata come pertinente alla vostra struttura. Ma allo stesso tempo invece di lasciarla lì alla mercè di chi legge e che magari legge per modo di dire e quindi vede solamente le stelline, mettete in evidenza il fatto che comunque quella recensione non è indirizzata a voi. Magari in questo caso potete parlare del fatto che è indirizzata semplicemente a quella città oppure sottolineare che non è riferita a voi perché voi magari non fate pizza nel vostro ristorante. Ma cercate comunque di sottolineare il fatto che non era per voi. Una cosa che invece ne voglio parlare ma della quale non sono altamente d'accordo è quella di cercare poi di contattare gli ospiti offline. Questa è una cosa che ci faceva fare il nostro, il mio ex direttore, l'ho visto poi gestire alla resident manager e devo dirvi che non è andata proprio così bene. Praticamente che cosa è successo? Che il direttore ha chiesto di ricontattare offline questa persona, la resident manager ha parlato con questa persona che avevano per tanto tempo e poi alla fine se sì non vi preoccupate la cancello, la cancello e tutte le risposte sapete che cosa è successo? E poi la moglie ha messo una recensione negativa. Quindi ma perché fare così? Potevate dirci direttamente no e finivare lì la conversazione. Non sempre questa cosa può andare bene, magari voi sarete molto più bravi della mia ex resident manager, è possibile, però effettivamente se questa cosa non è stata già gestita quando il cliente era in loco io dubito che poi si possa risolvere in un altro modo oppure successivamente. Poi ci sono clienti che magari lasciano la recensione negativa solamente per ripicca. E voi più lì che cosa dovete fare? Come dicevo non potete rispondere a tono, però far comprendere alle persone che stanno d'altra parte e che non li conoscono e devono leggere che comunque questa persona non aveva nessun diritto a lasciare la recensione. Oppure come vi dicevo prima che la lascia sia lui che la moglie. Quindi loro che fanno? Ne mettono due per far vedere che ci sono tante recensioni negative. Ma sapete io come faccio in questo caso? In entrambe le recensioni quando mi assicuro effettivamente che si tratta persone dello stesso nucleo familiare dico loro bene. Così come ho detto a suo marito, così come ha detto a sua moglie nella precedente recensione, le dico questo, questo, questo e questo. In modo tale che le persone nel momento in cui vanno leggere questa piccola, queste due o tre parole, si rendono conto che due recensioni negative invece e più valgono come una. Ma alla fine come si risponde alle recensioni negative? Che io vi dico sempre mi raccomando rispondete a regola d'arte. Bene, si risponde a tutti. Nel momento in cui affidate la gestione delle recensioni a qualcun altro, come succede con i miei clienti, mi raccomando tenetevi sempre in contatto con chi le gestisce, con il vostro community manager perché deve sapere cosa rispondere. Ma normalmente ad esempio io contatto direttamente il mio cliente nel momento in cui trovo una recensione negativa e cerco di capire qual è stato il problema e come effettivamente la possiamo gestire online. Inoltre che cosa fare? Bene, voi ringraziate le persone e mi direte come? Questa mi lascia la recensione negativa e che faccio? La ringrazio pure. Sì, perché comunque è più dedicato del tempo. Magari non è il tempo che volete voi, preferite una recensione positiva, ma mi dispiace così non è stato. Voi ringraziate sempre per il tempo che vi ha dedicato perché magari in quella recensione negativa voi troverete dei rispunti per migliorare perché non sono tutte recensioni fatte da idioti o gente che si vuole magari vendicare. Magari che effettivamente qualcuno che si è trovato male per un determinato aspetto non ha trovato nessuno in struttura disposto ad ascoltarlo e quindi di conseguenza ve l'ha comunicato tramite recensione negativa. Quindi voi ringraziate, cercate sempre di empatizzare con quella persona, vi scusate di assumete la responsabilità e dite come farete per rimediare. Mi raccomando questa cosa ve l'ho detta tante tante volte, non promettete mai sconti o soggiorni gratuiti perché che cosa succede? Nel momento in cui voi andate a promettere come risoluzione del problema un soggiorno gratuito o uno sconto, in conseguenza la prossima volta anch'io il primo pinco pallo che viene da voi dirà bene io ti lascio la recensione negativa anche se mi sono trovato bene perché la prossima volta voglio tornare gratuitamente o con lo sconto. Quindi capite bene come la gestione delle recensioni negative può fare in modo di migliorare comunque la vostra reputazione online. Perché nel momento in cui voi avete risposto a regola d'arte come vi ho appena spiegato dall'altra parte si tenuta attenzione al cliente, si scopre, l'altra parte scopre che nel momento in cui c'è un problema voi ve ne assumete le responsabilità e farete di tutto per rimediare. Nel momento in cui c'è una persona che effettivamente invece si è trovata male e come dicevo ha semplicemente fatto una recensione per ripicca così come è capitato anche tante volte a me come dipendente. Vi faccio l'esempio di questa persona che era venuta in hotel, ha preso solamente una notte per soffrire poi dalla piscina e di nascosto ha cercato di far entrare mezza famiglia con i bambini che giocavano a palla alle due del pomeriggio e il bambino continuava a dire di no e il bambino che faceva la pipì nella doccia e così via e purtroppo li abbiamo ripesi diverse volte. Dovevano lasciare la camera grazie a un letto check out entro le ore 14 erano le 16 che ancora non se ne volevano andare. Così quindi tutta risposta marito molle e figli hanno lasciato anche delle recensioni in obiettiva. Abbiamo risposto a regola d'arte senza insultarli anche se meritavano per gli insulti a man basse però non li abbiamo insultati e abbiamo spiegato la situazione che comunque semplicemente per il fatto che erano stati ripresi per non aver osservato il regolamento della nostra struttura no in quel caso non ci meritavamo una recensione negativa anche perché i servizi erano stati offerti al massimo del nostro livello. Ora ovviamente vi sto facendo una di assunto di questa risposta alla recensione però per farvi capire che rispondere a tono anche chi se lo merita e chi cerca di rubare comunque di pregare a voi come struttura bene non serve assolutamente a niente. Quindi rispondere a recensioni negative è davvero fondamentale lo dovete fare sempre però mi raccomando se vi rendete conto che siete furiosi io consiglio di rispondere entro 24 ore ma se voi siete incavolati niente siete furiosi lasciate perdere meglio rispondervi dopo tre giorni che rovinare la vostra reputazione online che con tanta fatica vi state costruendo giorno dopo giorno. Se invece volete affidare la gestione delle recensioni online a qualcuno potete contattarmi e qui in descrizione trovate il link al mio sito web e lì potete prenotare una chiamata gratuito e conoscitiva con me e scoprire tutti i servizi di social media hotel. Come sempre spero che questo video vi sia stato d'aiuto io vi saluto e vi aspetto al prossimo video. Besos!